L'inchiesta su un presunto voto di scambio alle elezioni regionali del 31 maggio in mano alla finanza. Il procuratore ha giunto Antonio De Donno a delegato e militari del nucleo di polizia tributaria a verificare quanto denunciato in un esposto anonimo arrivato in procura. Nell'indagine non ci sono indagati, ma dai nomi che vengono tirati in ballo nell'esposto. E' chiaro che si tratta in una battaglia politica nel BD, una guerra senza esclusione di colpi. Giuseppe Taurino, direttore generale dell'ARIF, l'Agenzia per le attività irrigue forestali della regione in campagna elettorale, si sarebbe schierato a sostegno di Blasi. Secondo la tesi dell'esposto, in cambio del voto a questo, avrebbe fatto assunzioni. Nell'agenzia ARIF sarebbero 250 i nomi, la maggior parte sarebbero della provincia di Lecce. Le assunzioni, che sarebbero state fatte attraverso un'agenzia interinale senza nessun bando. E tra gli assunti ci sarebbe anche uno dei responsabili o proprio il responsabile dell'agenzia stessa. Molti ipotetici beneficiari, persone molto vicine al PD, anche amministratori di Nardò, Noi Pignano e della segreteria provinciale. Ci sarebbe anche un avvocato a sostegno dell'ARIF con le mansioni di operaio. Nell'esposto si parlerebbe anche del meccanismo dell'indicazione di voto, sulla scheda S.blasi oppure Blasi.es. Una sorta di scambio di favori, in quanto nel 2010 Blasi, da segretario regionale del partito, avrebbe sostenuto la nomina di Taurino all'ARIF regionale. Accuse, tutte da verificare, sulla base di un esposto anonimo. Che hanno scatenato però un terremoto di commenti e di reazioni. Parlano di una campagna infamante da parte di chi probabilmente è rimasto deluso dall'esito delle urne. Blasi e Taurino che rigettano qualsiasi accusa rivendicando la correttezza del loro operato. Le assunzioni le abbiamo sempre fatte in primavera e in autunno, commenta Taurino. Non avendo avuto mai a mio carico alcun sospetto né macchia né indagine né condanna, considero la reputazione e l'onorabilità il mio patrimonio più prezioso, tuona Blasi. Sul modo in cui sia nata la vicenda dell'esposto e il conseguente ridevo mediatico che le viene dato, mi sono fatta un'idea che per il momento credo sia giusto ottenere per me. Ma ciò non vuol dire che sarò tollerante nei confronti di chiunque sia azzardi con ogni mezzo sulla base di notizie da verificare, a coinvolgere la mia persona, ai racconti o suggestioni infamanti. Alle persone che mi sostengono, continua Blasi, dico il risultato elettorale che abbiamo ottenuto ha rotto degli equilibri, ha mandato all'aria i progetti di tante persone, ha suscitato malumori diffusi. Rallegratevene perché vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante.